Ciao a tutti ragazzi bentornati da Carmi Special E allora mi avete tanto veramente rotto le scatole, non sto scherzando Mi avete mandato una valanga di messaggi sui consigli per l'asso di riparazione Bene, ne ho fatto già uscire qualcuno nei giorni scorsi Quindi mi raccomando recuperatevi in caso di video che non avete visto Ad esempio quello di ieri su Zlatan Ibrahimovic Su una valutazione provvisoria che ho dato sul giocatore Se prenderlo, perché prenderlo e perché no eventualmente Quindi mi raccomando andate a vedere il video di ieri Ma ci sarà poi un altro video su Ibrahimovic Ovvero un video nel quale vi dirò i giocatori da non svincolare per Ibrahimovic Perché molti hanno questa domanda Cioè quali giocatori conviene magari svincolare per andarlo a prendere Ecco, siccome sono tantissimi i giocatori che si possono svincolare per poterlo prendere Vi dirò semplicemente quelli che non andrei a dare via per lui, ok? Per oggi di cosa parliamo? Mi raccomando subito, istantaneamente un bel like Perché oggi parliamo di 5 giocatori Soprattutto saranno, mi pare, 5 centrocampisti, sì Che bisogna osservare in questo mese di gennaio Infatti, durante queste settimane, queste giornate prima dell'asta di riparazione Dovremo capire se la loro appetibilità all'asta di riparazione sarà effettiva Cioè saranno appetibili o meno Perché dico questo? Perché non è detto che giocatori che adesso sono magari interessanti Perché hanno portato qualche bonus Perché hanno fatto bene Poi durante il girone di ritorno magari saranno interessanti Quindi queste giornate ci servono un po' ancora di più per capire questo utilizzo, ok? Poi ci saranno altri video, forse come questo, dove vi darò altri nomi interessanti Allora, andiamo a vedere che nomi ho selezionato per questo episodio Vi ricordo anche il nostro store Lo trovate in descrizione, ma anche nelle schede Mi raccomando, dateci un'occhiata Ci sono diversi maglie, felpe, tazze a tema fantacalcio Ad esempio quella di Guaiarella, che vi ha risolto sta giornata con la doppietta Quindi per ringraziarlo andatevi a prendere la felpa, la maglia E portatevela all'asta di riparazione, mi raccomando E andiamo a vedere i giocatori che ho selezionato Il primo è Dominguez, centrocambista del Bologna Ok, arrivato appunto al Bologna Che è subentrato nel secondo tempo, nell'ultima partita contro il Torino Ma si è abbastanza messo in mostra O meglio, ha fatto quello che doveva Con appunto le giocate giuste, se vogliamo Anche un bel passaggio per, mi pare, Palasio Se non fosse appunto Palasio E quindi diciamo che potrebbe essere un profilo interessante Ma abbiamo ancora troppe poche informazioni In questa stagione, prima di arrivare al Bologna Nella stagione appunto 2019-2020 Aveva già segnato, mi pare, 5 gol In 14 partite con la squadra di appartenenza Mi pare fosse il Velez o qualcosa del genere Però non abbiamo ancora indicazioni Sulla sua veramente potenziale titolarità Quindi osserviamolo in queste giornate Ecco, prima dell'asta di riparazione Capiamo se effettivamente Mijailovic Punterà su questo giocatore Che comunque è abbastanza completo come centrocambista Quindi può dare il suo supporto Soprattutto in fase anche offensiva E quindi potrebbe essere una buona scommessina Tra gli ultimi slot del vostro centrocampo Quindi osserviamolo in queste giornate Altro giocatore da osservare è Benassi Più che osservare lui Dobbiamo osservare l'utilizzo che ne farà Iachini E soprattutto il rendimento che potrà avere la Fiorentina Magari in queste giornate Perché la Fiorentina, ragazzi È una squadra che quest'anno non segna tanto Ha spesso delle difficoltà Tra l'altro appunto Gioca a volte con un modulo, se vogliamo, un po' difensivo Però Benassi sta raccogliendo di nuovo punti Ok, è tornato a giocare Mi ha, diciamo, spoilerato un po' il tutto Con quel gol che ha fatto Nella diciottesima giornata E lì mi sono un po' arrabbiato Perché dicevo, cavolo Stavo quasi per consigliare Tra le possibili scommesse Nell'asta di riparazione E mo' segna, così si mette in mostra E allora Potrebbe essere effettivamente un buon colpo Perché lui in passato comunque ci ha abituato Anche a De Gaulle Nella vostra, diciamo, Lega Potrebbe essere svigolato Ok, perché comunque non è stato sempre Titolare questa stagione Anche appunto perché ha saltato diverse giornate Anche per l'infortunio Ora ragazzi Capiamo un po' in queste giornate Come detto Se appunto si confermerà come titolare A me piace di più rispetto a Badelli Anche se hanno ruoli differenti Ovviamente si sposta in quel caso appunto Pulgar Però secondo me è un giocatore abbastanza offensivo Che può dare bonus Perché ha un tempi di inserimento Veramente ottimi Un buon tiro Quindi potrebbe essere effettivamente Un buon centrocampista da avere al fantacalcio Osserviamo Una sorta di altro Castrovilli Ecco, lui e Castrovilli Sono secondo me Abbastanza simili Fantacalcisticamente Come giocatori Forse Benassi è un po' più discontinuo A livello di prestazioni Mentre Castrovilli magari Porta a casa sempre A sufficienza Mentre Benassi è un po' più pericoloso Dal punto di vista offensivo Quindi attenzione Anche a Benassi Osserviamolo in queste giornate E poi decidiamo Se andarlo a prendere eventualmente All'asta di riparazione Altro nome che vi ho messo qui È Yankto Qui sono un po' scettico Nonostante Abbia azzeccato Il pronostico su di lui L'ho messo come marcatore Improbabile Ok? Di questa giornata Ed effettivamente Non solo ha segnato Ma i ragazzi Gli ho occupato clamorosamente Perché ha fatto gol Due assist Veramente 13 Ha preso sta giornata Quindi praticamente Compensa in una sola giornata Tutto quello Schifo che ha fatto prima Però non è che è proprio Un'compensazione Perché in una sola giornata Non può compensare tutto Però 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 Attenzione Perché Non è tutto rosa e fiori Cioè la Sampdoria È sempre una squadra Abbastanza Discontinua Non ha fatto benissimo Finora Quindi Cerchiamo di capire Se in queste giornate Appunto Notiamo Un miglioramento Non solo Ovviamente di Yankto Ma anche della Sampdoria E capiamo appunto Se questo giocatore Ma anche altri giocatori Della Samp Che sono magari Svingolati Nella vostra Lega Potrebbero Diventare appetibili All'assa di riparazione Io Ho messo appunto Yankto Perché effettivamente È un centrocambista Che in passato Ha saputo far bene Anche in termini Fandacalcistici E che quindi potrebbe essere Magari appetibile Nelle Lega Magari numerose Quindi Soprattutto poi Se inizia a fare prestazioni Come quella appunto Contro il Brescia Dove prende Praticamente 8 Più gol Più due assist Se non sbaglio Quindi Veramente una partita Illegale Quindi Ho azzeccato questa cosa Tra l'altro Mi è piaciuto azzeccarla Perché molti Lo sconsigliavano Questa giornata Non so per quale motivo O meglio Diciamo che Ovviamente È un giocatore Che ha fatto rendimenti negativi In questa Questa stagione Però io Me lo sentivo In maniera positiva E ho azzeccato Quindi attenzione Osserviamo anche lui Però attenzione Perché non è un giocatore Affidabile Questo assolutamente no Quindi cerchiamo di studiarlo Un po' prima Un giocatore invece Che potrebbe essere Abbastanza affidabile È Strefezza Vi ho già parlato di lui In passato Anzi Diversi mesi fa Quando ho iniziato A fare le prime presenze Vi ho detto Attenzione al suo giocatore Perché inizierà A giocare parecchio E fare buone prestazioni Così è stato ragazzi Ha preso spesso Valutazioni anche buone Ho una media Del 6.04 E fan da media Del 6.21 Ha fatto due assist Un gol Alla 17.00 giornata Se non sbaglio O sì Però attenzione Perché è un giocatore Un po' Molto Irruendo Nel senso che Dà il tutto In campo E questo gioca A livello di valutazioni Perché prende quindi Buoni voti Ad esempio La spalla Perso contro la Fiorentina Ma lui si è portato a casa Lo stesso Un 6.5 7.00 Per alcune redazioni Addirittura Quindi ha fatto comunque Una buona prestazione Non lo fermavano Questa giornata Quindi Ha veramente È un giocatore Molto Vivace Ecco Il termine giusto È vivace Quindi potrebbe essere Pericoloso In fase offensiva Quindi portare Anche dei bonus E il legge numerose Secondo me Vale la pena Dà di magari Uno slot Ad oggi Quindi Osserviamolo ancora In queste giornate Potrebbe magari Confermare questo rendimento Portare ancora buoni voti Potrebbe essere Il Lazari Il nuovo Lazari No? Quello appunto Che alla spalla Giocava bene Perdeva sempre buoni voti E faceva anche assist Ecco Strefezza Potrebbe essere Il suo erede Magari Non copre bene In fase difensiva Perché è molto più Offensivo Però magari Questo vi potrebbe Anche regalare Qualche più tre A sorpresa Quindi Osserviamolo ancora di più L'altro nome Che vi metto È Zaccagni Qui lui Forse in qualche lega È anche stato preso In leghe numerose È un giocatore Che ha giocato molte partite Ve ne ho parlato Anche di lui In passato Perché vi ho già detto Di osservarlo E continua Questa Come dire Questa monitorizzazione Se si può dire Cioè Il monitoraggio Ecco Forse è più corretto Cioè Il fatto di Osservare Questo giocatore Perché In lega numerose Secondo me È abbastanza utile Gioca sempre Prende buone valutazioni Una media Del 6,18 In una squadra Comunque Che dovrebbe Lottare per la salvezza Secondo me È una buona media In più Quindi Diciamo Per una lega numerosa Dove puoi andarti a prendere Dei giocatori Che comunque Giocano sempre In più Sta portando anche dei bonus Ha fatto già tre assist Ha segnato Questa giornata Si è messo Quindi Ancora più in mostra Secondo me Potrebbe valere la pena Dargli uno slot Ovviamente In lega numerosa Cioè Ad esempio Dieci partecipanti Quindi Mi intriga Mi intriga parecchio Questo Questo giocatore Soprattutto perché Mi intriga Il Verona Osserviamo ancora Questa squadra In queste giornate Perché soprattutto Ci sarà un video dedicato Sulle squadre salvezza Perché poi Come vi spiegherò Nel fine campionato Sono quelle squadre Che a volte Danno Il 100% Proprio per salvarsi E quindi potrebbero Diciamo Dare ancora più valore Ai loro giocatori Quindi Attenzione Insomma Lui ha fatto una super prestazione Contro il Genoa E potrebbe magari farne altre Da qui A fine anno Quindi Osserviamo anche lui Detto questo ragazzi Voglio sapere la vostra opinione Su questi 5 giocatori Qua nei commenti Ma una cosa che vi chiedo Qua nei commenti Sempre qua sotto Nei commenti Scrivetemi altri nomi Che secondo voi Sono da Tenere d'occhio Da osservare Ce ne sono tantissimi Ve ne porterò qualcuno Nei prossimi episodi Anche aiutatemi Nell'osservazione Perché magari Io non riesco a seguire Tutte 10 le partite Di Serie A Quindi magari Voi avete indicazioni Più Dettagliate Più accurate Rispetto a questi 5 giocatori O ad altri Quindi sbizzaritevi Qua sotto nei commenti È una bella Community Fanta Calcistica Quindi sfruttiamola E diamoci appunto Consigli A vicenda Detto questo Io vi auguro Buona fortuna C'è l'ultima partita Di Serie A E sta finendo E sta finendo Anche la voce Ci vediamo Domani Con il resoconto Di giornata Di questa giornata Fanta Calcistica Vi dico già Che a me È accaduto di tutto Come sempre Come sempre Quindi ci vediamo Domani Con qualche imprecazione Sicuramente Nei video Ok Alla prossima ragazzi Ciao Ciao